Grazie a tutti. Ottaviano Berta. 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 Siamo sempre nella classe 1.4 Danilo Procobio chiude in 2.48 e 63 Maurizio Jacopino in 3.06 e 0.02 Il dividione delle bicilindriche rimane nel 2.0 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 Il numero 16, la partenza ora Francesco Scroo deve migliorare un 2,52,23. Il numero 16, la partenza ora Francesco Scroo deve migliorare un'altra parte, il numero 16, la partenza ora Francesco Scroo deve migliorare un'altra parte, la partenza ora Francesco Scroo ha avuto un tre ruote! Sì! La peccato! La peccato! Allora, scherziamo, qualche piccolo intoppo? Un piccolo intoppo alle ore, più o meno risolto, ci ha fatto arrivare alla fine. alla fine è arrivato Gianfranco con il carroattrezzo Gianfranco e Pietro ci hanno permesso di fare sempre come al solito la gara Ivano già mi ha parlato della sua gara già ho fatto quello però saluto sempre a loro e ringrazio loro soprattutto perché sono qua con loro bene tocca a te allora qualcuno ha fatto le tue veci oggi è andata bene nel team qualcuno è andata benissimo sono a spalco oggi sono a spalco va bene grazie a tutti e tre saluto a Gianfranco guarda che facciamo un aolo per Gianfranco forza Gianfranco questi ragazzi qua ne stai portando più di uno ragazzi cresce la famiglia ma a te quando ti rivediamo di nuovo alla prossima spero alla prossima nessuno e corro soltanto io e tutti a parola grazie a tutti grazie classe 10004 terzo classificato Bozzo Michele e poi primo classificato Leone Cesare classificato classe 10004